Ciao a tutti ragazzi di Alessia, Alessandra Batana 91 In questo video qui apriremo l'uovo Galak Adoro la cioccolata bianca oltre a quella al latte quella con le mandorle, noccioline o fondente non mi piace questo qui Galak è fin da piccolo, mangio le barrette di cioccolata Galak e cioccolata bianca, fin da piccolo la adoro quella cioccolata, quando ho visto l'uovo non potevo non prenderla, quindi apriremo dovrebbe uscire qualche sorpresa tipo a forma di cuccia di cioccolato è una sorpresa, quindi niente di che però adoravo la cioccolata, la sorpresa è di più, apriamo Non so che cosa mi sembra questa forma così bianca, sembra una palla magica dietro questa cioccolata Galak è buonissima ragazzi, bianca, fin da piccola le mangiavo le barrette, è buonissimo andiamo e vediamo questa è anche l'apertura sotto no, questa è proprio vediamo la sorpresa è uscito in questo qui rosa il gioco memory della Galak che sono a figurine diciamo che in tutte le sorprese io becco sempre figurine non vuole capire è una meredizione a bianca, come l'hanno fuggiata con il gelovano ecco, come l'hanno fuggiata con il gelovano un po' come Chiara Ferragni delle memory card a forma di cioccolato bianco posso dirlo, una cagata paschiesca si sono spregati questi della Galak con queste memory card a forma di di gocce di cioccolato bianco si sono spregati ragazzi una cagata che gli do 5 ed è pure tanto e gli do 5 solo perché il cioccolato bianco è buonissimo cioccolato bianco ragazzi la loro colto quella della Galak un orgasmo buonissimo 10 alla cioccolata e uno è questa una sorpresa orribile la Galak si sprega a me nelle carte di Chiara Ferragni sono Chiara Ferragni quindi già meglio le carte con la goccia di cioccolato della Galak vabbè l'ho comprata sopra la cioccolata bianca fatemi sapere se voi avete comprato l'uovo Galak e che cosa avete trovato buona Pasqua a tutti ragazzi a voi le nostre meraviglie famiglie ci vediamo poi nel prossimo video ragazzi buonissimo buonissimo la cioccolata bianca buonissimo fin da piccola l'adoravo il regalo orribile ragazzi e con tutta la buona volontà la Galak si è spregata vi vediamo il prossimo video ciao ragazzi